In diretta dagli studi di ETV Marche, va ora in onda Buongiorno Marche, la rassegna stampa dei marchigiani, a cura della redazione giornalistica di ETV e di Radio Center Music. Invia i tuoi messaggi via sms al 349 39 18 169, via facebook o twitter, email redazione at etvmarche.it Buongiorno, buona gente, questo cordiale saluto vi giunge dagli studi di ETV e di Radio Center Music per Buongiorno Marche, la rassegna stampa dei giornali marchigiani. Sette e due minuti questo bel brano, per carità, molto bello ma non ci lasciava la linea, ma d'altro canto è bello anche iniziare con la musica, che pure è un ingrediente di Buongiorno Marche, così come principalmente i giornali marchigiani, che sono, lo dice il nostro stesso titolo, la rassegna stampa, appunto il nostro punto di riferimento. Questa è l'apertura del Carlino per Ancona e provincia, muore nel rogo, una notizia che eravamo riusciti ai noi, ma doverosamente a darvi già ieri nella fase finale del nostro programma, attorno alle 9, proprio grazie a Twitter, era arrivato un cinguettio, perché si chiama così, anche se portava una brutta notizia da Twitter, una flash news che poi abbiamo seguito nel corso della giornata, ecco qua intanto il nostro profilo Twitter, potete stare con noi, scriverci, a leggere le nostre notizie quotidianamente, dicevamo una notizia che poi abbiamo seguito, con il nostro Andrea Fiammono siamo andati sul posto, abbiamo realizzato anche un servizio radio televisivo con delle immagini che tra poco vi proporremo. La carta stampata, dunque ingrediente importantissimo di Buongiorno Marche, ma c'è anche, come abbiamo avuto modo già di anticipare, l'online e quindi i siti nazionali e internazionali, partendo da www.etvmarche.it, il nostro sito, quella che è la nostra stella polare, dell'informazione marchigiana, già che è aggiornato 24 ore su 24, con tante notizie che riguardino tutta la regione Marche, quindi da Iesi all'Aspio in questo caso e poi anche la questione della provincia di Ancona, le iniziative, gli appuntamenti, e questo ve lo vogliamo subito lanciare, questo pomeriggio, mercoledì 19 settembre alle 16, il ricordo accalorato di Nazareno Re, una figura tutta da ricordare, tutta da riconoscere, un impegno di democrazia e di antifascismo, oggi pomeriggio in rettorate. Poi la cronaca dal Monte Argentella giù da un canalone, così è morto il giovane Luca Santarelli, quasi impossibile raggiungere il corpo del povero ragazzo, talmente impervia è la zona dove è rimasto vittima di questa terribile caduta. In primo piano sul Carlino, Marchigiano Doc oppure no, Pesarese oppure no, insomma anche il pane taroccano, scoperto e sequestrato falso pane di Altamura, che è un prodotto DOP, cioè denominazione di origine protetta, venduto in fiera a 5 euro al chilo, in realtà era taroccato, non era un pane originale, pensate un po'. Un piano per salvare la provincia, restiamo su un tema che ieri avevamo già anticipato, ieri i dipendenti della provincia di Pesaro si chiedevano, chiedevano se davvero intendesse lasciare il presidente Ricci, l'ipotesi è quella che Ricci possa spiccare il volo per una carriera politica che in tanti gli danno come possibile sviluppo futuro, insomma anche un percorso romano per intenderci, tanto ha dimostrato, tante qualità ha dimostrato in questi anni di guida della provincia di Pesaro, il punto della situazione è aggiornato da ieri e oggi, il presidente convoca i dipendenti in assemblea da approvare entro il mese questo piano appunto per salvare la provincia. Al Corriere Adriatico per Macerata e provincia ancora un'apertura, scacco alla banda dei furti, otto denunce per la raffica di raid tra Fabriano e Alto Maceratese, è presa la banda che negli ultimi mesi ha messo a segno decine e decine di furti tra Fabriano e la provincia di Macerata, otto persone tra i 23 e i 43 anni, tutte residenti a Fabriano, notizia che viene da Fabriano ma che fa riferimento al maceratese. Altre aperture e poi entreremo anche nelle altre notizie, taglio centrale, taglio basso, la pagina sportiva, ci sono i tifosi del Milan in particolare un pochino in fibrillazione, vedo, perché la partita di ieri non è andata benissimo, ancora 0, dice proprio il titolo della Gazzetta, tra poco sarò più preciso, intanto solo l'anticipazione, Milan ancora 0, nel senso che 0-0, nel senso che 0 gol fatti tra campionato e Champions League, tra le mura amiche di San Siro. La cronaca del Corriere Adriatico in primo piano, notizia che abbiamo già sviscerato attraverso il servizio del nostro Andrea Fiano, muore in casa tra le fiamme, tragedia in centro a Iesi, ex infermiere invalido, resta in trappola. Edizione Marche ora del messaggero, sanità, approvata la riforma, come potrete vedere, eccola qua, anche l'edizione di Ancona apre con questo stesso titolo, soppressi 159 posti letto, questo è il bilancio, prevista la riconversione degli ospedali minori, la legge stabilisce ruoli e competenze nella programmazione, la gestione del settore nelle mani dell'Asur. Diamo un altro elemento rispetto a quanto accaduto nella giornata di ieri, lo riporta il messaggero in taglio centrale, ius soli, cioè il diritto di cittadinanza che deriva dall'essere nato in un certo territorio. In Italia non è così, negli Stati Uniti d'America è così, chi nasce in Italia non è italiano automaticamente, mentre negli Stati Uniti d'America sì. Zaffini in aula con la Kefia, un vero show del consigliere regionale che ha indossato la Kefia per protesta durante l'assise. Che è successo? Aveva chiesto Zaffini di rinviare la proposta sullo ius soli, la proposta non è stata rinviata e allora si è messo la Kefia dicendo tra dieci anni saremmo tutti così. Solazzi, il presidente dell'assemblea legislativa regionale lo ha minacciato dicendo se non la smette la caccio dall'aula. Questo è quanto è successo nella giornata di ieri. Condannato ma non ha niente e allora paga il comune. Intanto uno che davvero non ha niente, pensionato ridotto alla fame, Equitalia gli pignora tutto, vince la causa ma non serve. Pensate che storia straziante, quella raccontata dal Carlino Pesarese a pagina 4. Poi il tema del biogas perché non è ancora finita lì, alto là degli imprenditori alla regione sulla moratoria. Perché se prima c'era stato il nulla osta, poi il consiglio ha bloccato questo nulla osta alle 15 centrali, ma chi quel nulla osta, quel via libera l'ha ricevuto, cioè le imprese adesso dicono un momento, noi le carte ce le abbiamo e non ci fermiamo. Dal Carlino Pesarese la notizia la troviamo anche sul messaggero edizione Marche. Comitati e politica, stop biogas, regione fronte bipartisan per la sospensione delle autorizzazioni ai 15 impianti, ma ecco il ma, le imprese insorgono, progetti in regola, chiederemo i danni. Biogas, i comitati per il no alle centrali propongono una proposta di legge per sospendere le autorizzazioni date ai 15 impianti, che però intanto promettono battaglia. Dal Carlino Pesarese al messaggero, zona Ascoli, Fermo, San Benedetto, per tornare al Carlino Anconetano. Avevamo solo visto l'apertura, muore nel rogo. Iesi, la vittima, è Claudio Argentati, bloccato nella sua casa. È stato trovato senza vita ieri all'alba. Taglio alto, Renzi divide anche gli anconetani. Ecco chi sta con il rottamatore, intanto i grillini si schierano con il loro fondatore. Siete pro Renzi o contro Renzi? Se potete e volete avete anche la possibilità di scriverci un messaggio su questo. La città si riempie intanto di cartelli assurdi, lo dice il Carlino Dorico, al mercato coperto. Per esempio ecco l'allarme originale, Caduta Massi. Questa signora che la mostra, questa scritta, da Brava Valletta, rifiuti ovunque, Vallemiano è diventata una discarica a cielo aperto. Questa notizia mi ricorda qualcosa. Dal Carlino per Ancona e provincia, eccola qua, la notizia ieri l'avevamo, anzi ieri l'altro, l'avevamo già pubblicata sul nostro sito. Discarica a cielo aperto a Vallemiano con tanto di video. Ma ci fa piacere che anche altri mezzi di informazione ne parlino, perché il nostro obiettivo non è parlare di un problema e eventualmente aiutare a risolverlo. Questo sia chiaro. Al piano si picchiano a sangue in difesa delle figlie. Succede a pagina 5 l'approfondimento. E poi Osimo, esposto di latini per i lavori all'ospedale. Questo è il punto del Carlino Anconetano. Rattorno da voi. Dieci messaggi in sospeso, chiedo scusa, li leggo tutti. Buondì Maurizio, ma come mai questa mattina non ti hanno affiancato una segretaria per leggere i messaggi al cellulare? Oggi è San Gennaro, chissà se a Napoli festeggiano alla grande, come ho potuto constatare anni fa durante un weekend in quella bellissima zona. Ciao a tutti da Laura di Ancona. Cara Laura, no, non c'è bisogno della segretaria. Leggo io volentieri tutti i messaggi. Oggi, grazie comunque della battuta, oggi è San Gennaro, mi dici? Io verifico immediatamente sotto la testata del messaggero Ancona. Eccola qua. La zona Almanacco. Gennaro, nato a Napoli nella seconda metà del terzo secolo, è eletto vescovo di Benevento. Viene decapitato per ordine di Dio Cleziano il 19 settembre del 305. Durante l'esecuzione una nobildonna di nome Eusebia riesce a raccogliere in due ampolle il sangue custodendolo con molta venerazione. Da lì appunto il miracolo del sangue che si scioglie, il miracolo appunto di San Gennaro, che si ripete a distanza di secoli. Giornali, ora perché non dimentichiamo che siamo di carta stampa parlando. Pagina 39, Perilli conferma a fine mese, tutti a casa, il segretario PD di Ancona ha allertato assessori e consiglieri. Vi ricordo che cosa si è deciso a luglio, non facciamo finta di niente, avrebbe detto Perilli. Smentita la convocazione di una nuova assemblea, c'è tensione nell'aria, ritiro degli assessori, Segramillano non si dimetterà dopo il riequilibrio. Questo dunque è il destino ormai certo, pare, della comune di Ancona, che dovrebbe a questo punto andare al voto nel 2013 con le nazionali. Il conto alla rovescia segna meno nove giorni. Segramillano non si dimette, il PD si prepara a ritirare i suoi assessori dalla giunta, senza passare di nuovo dall'assemblea comunale. Così la città perde il teatro, le muse contestano la fusione, parla Franco Pietrucci, stabile, l'unione serve ad altro. Non è andata giù dunque a Pietrucci questa fusione muse stabile, anche se ieri abbiamo letto dai giornali, in particolare l'entusiasmo dell'assessore regionale Marcolini, per questo nuovo polo della cultura marchigiana. Poco fa era arrivato un messaggio che parlava delle buche in città ad Ancona. C'è una notizia, asfalti, il piano delle strade sperando nel bel tempo. Piano degli asfalti, ecco la mappa dei cantieri. Entro la settimana, infatti, è annunciata la fine dei lavori in via Trieste e via Albertini, sperando nel sole. Condizioni meteo permettendo via ai lavori dalla prossima settimana. In via Rismondo, nel quartiere Adriatico, e in via Sacripanti, la strada che collega l'asse nord-sud della statale. Nell'agenda delle prossime settimane ci sono anche le asfaltature di via Torresi, via Vallemiano e via Baldassarre. In via Sacripanti, adesso la memoria mi ha acceso una lampadina, eravamo stati in via Sacripanti poco fa, e avevo anche citato quel servizio con le immagini, il famoso parallelismo con il Grand Canyon, così, per prenderla anche un po' a ridere. Buongiorno Maurizio, faccio gli auguri, altro messaggio ancora, a mio figlio che ti sta ascoltando in macchina, perché ieri gli hanno confermato l'assunzione in banca a tempo indeterminato. Dico a tutti i giovani, non perdete la speranza, dice Laura. Cara Laura, grazie, grazie, grazie per questo bel messaggio, che deve essere un esempio positivo. Il messaggio è arrivato alle 8 e 4 minuti, io sono riuscito a leggerlo solo ora, mi auguro che tanti giovani abbiano sentito questo messaggio, lo rileggo. Buongiorno Maurizio, faccio gli auguri a mio figlio che ti sta ascoltando in macchina, perché ieri gli hanno confermato l'assunzione in banca a tempo indeterminato. Complimenti, se l'è meritata, se l'è guadagnata. Ai giovani, dice questa mamma, dico non perdete la speranza, viva mamma Laura e immagino anche la soddisfazione per questo figliolo che trova finalmente un posto tranquillo, anche se di questi tempi tranquilli non siamo nessuno, però questa è una bella mattonella sulla quale costruire, cara Laura, magari una famiglia, dei nipotini, non lo so, vediamo. Scherzo, non lo so. Buondi Maurizio, ho pubblicato due posti importanti sul vostro profilo di Buongiorno Marche riguardo alle associazioni Ampas, ve ne potete occupare con un servizio. Ciao da Luca di Ancona. Caro Luca, vado subito a verificare quello che ci hai postato con un aggiornamento su Facebook. La situazione delle croci, l'abbiamo, eccola qua, sì, l'abbiamo ieri, ricordo, letta, sul quadro Fermano, Fermano. Le croci del Fermano dicevano dal primo ottobre ci fermiamo se non arrivano i rimborsi. Evidentemente l'aria che tira anche nell'Anconetano non è buona, è pesante. Allora, Luca Pirani ci scrive, cari concittadini di Ancona e di tutta la regione Marche, il primo ottobre tutte le associazioni Ampas, come la scrivente e la Croce Rossa italiana, saranno costrette contro ogni volontà a fermare le proprie ambulanze anche per i servizi di emergenza, quelli legati al 118. Sebbene i politici regionali stiano iniziando a far cadere le responsabilità di un tale gesto sulle stesse associazioni, sappiate, scrive Luca, che sono dieci anni che viviamo nella loro totale indifferenza e che in poco tempo saremo costretti alla chiusura definitiva per i debiti accumulati con le banche e che quindi nessuna responsabilità dovrà essere a noi attribuita. Davvero difficile questa situazione evidentemente, così come nel Fermano, anche nell'Anconetano. Grazie Luca, certo, certo che ce ne occuperemo assolutamente.